...questo è il gruppo dei fugitivi. Ecco il primo gruppo degli inseguitori. Il gruppo si è spaccato in tanti tronconi. La storia di medicina in titolo. C'è un'attuale招不o che sono rimanti con la città. Un piano in amicabili. Il gruppo di allenatori. Capito in querto. E' un'attuale ambito di qui abbiamo, la tratta di qui ha osservato dal l'economia delle uova. E' un'attuale bianco. C'è un'attuale bianco che riesco, la curva il gruppo dei fuggitivi ecco qui il gruppo degli inseguitori mancano 9 giri a termine ecco il gruppo dei 9 fuggitivi ecco affrontano la curva ecco la cosa del gruppo mancano 9 giri ecco il gruppo dei fuggitivi affrontano la curva il trigolo da via secondo da simicato mancano 6 giri a termine 6 giri a termine 6 giri 6 giri a termine mancano 6 giri a termine m4 e m5 ecco il gruppo dei fuggitivi questo è il gruppo degli inseguitori 5 giri a termine mancano 5 giri 5 giri a termine 5 giri a termine 45 secondi ecco hanno 45 secondi di svantaggio 45 secondi Grazie. 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 Grazie.